intanto voglio dire una cosa questo è io, scusate questa roba mia da Aurora e Martina questo? si posso far vedere? e con noi non vedremo mai saremo ma saremo impiegando questo è per il patente c'è un pezzo che ne ha molto e voglio anche firmare e stasera non lo so io sono ripieno si s才 che saperebbe un attimo a questo imponi il solo altro rumore che in una persona manca come ha il di il ட e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.